Mercoledì 31 maggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In primo piano la tragedia che si è verificata questa mattina nella zona del Parco San Bartolo, dove un 58enne, Mario Zaffini, è morto schiacciato dall'albero che stava tagliando. È successo intorno alle 11.30 lungo la strada panoramica adriatica e a lanciare l'allarme sarebbe stato un passante. Purtroppo è stato vano ogni tentativo di rianimarlo. L'uomo stava eseguendo le operazioni di potatura su una quercia quando è stato investito e schiacciato dal tronco. Sul posto i vigili del fuoco di Pesaro, il 118, i carabinieri di zona ed il personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.